Allora, proviamo questo titolo trafico. Ok, vediamo un attimo. Grazie a tutti. Ok ragazzi, nuova partita, principiante perché non lo so, vai. Ok, cosa devo fare per andare avanti? C'è proprio il corso del mezzo di Twitch. Fenix Point, Xbox Series X, Microsoft, Xbox Game Pass, ultime, gratuito. Ok ragazzi. Incluso nell'abbonamento. Ok. 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 Fichissima, 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 fichissima ragazzi. Ok. 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 basi, ok, allora no, ascolta un attimo, LT attacca, allora forse devo prendere quell'altro, let's go, ok, a mo' lo seguiamo, oh, figata, e uno è morto, puoi mettere fino al turno, ok, questo qua, perfetto, oh cazzo, guarda quello là, oh, ok, allora io lo sparo, mira libera, bello, bello, completi la missione, ah, ok, i velicoli sono speciali, tipo, non possono trasportare agenti Fenix, ok, entra nel velico e muovere un indicatore e conferma la verità, ok, però chiaramente arriveranno altri scemoniti, ok, ok, eccoli che arrivano, io sono esposto qua, caspita, oh, questo è la sopra, allora, tutti gli animali di Giovedo opereranno con l'icone, ora puoi selezionare il personaggio, ok, ok, allora, no, io non volevo, questo lo prendo, ah, non mi arriva, ok, ok, allora, adesso io con questo, volevo, sparare a lui, no, me lo libero, ok, ok, i tuoi soldati attivi non hanno più puntazione, vuoi tenere il turno? si esatto, si, ma cazzo, sta venendo gioco la, aiii, eh si, adesso mi attacca a chi cazzo, allora, pazzarola, ospiterola, allora, io ti voglio imparare di testa, ah, 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 allora, vai avanti, ok, ok, la questione di curarsi, qual è che sarebbe? ok, io vorrei curarmi, guarda questo, vediamo se riusciamo a entrarci, PA, PV, ok, se ne compie, se ne compie, allora, ferite subite, immutate, immutate, insomma, più o meno, più o meno, più o meno, se ne compie. for scavenging supplies and equipment but they often attract desperate quali sono i toglie gave us the reason for our stop an emergency rescue signal from another phoenix operative we had a location too right in the middle of that station the scarab made it clear that we should attempt a rescue before continuing with our journey despite no sign of the mutants our comrade was clearly under threat the scarab missile launcher would prove very useful we've got visual on the building the phoenix operative should be close by there are hostels up ahead stay vigilant allora a i soldati a 4 punti per usare le spostamenti traiettorial ogni turn queste azioni possono essere in qualsiasi 4 a ok orca i'm going in allora vediamo un attimo la situazione io vado qua con lui e gli sparo e beh certo certo è ovvio consiglio tattico lo scarabino mi ricordi con l'azzata che posso portare con potenti lanciamissili come si fa posso spostare anche lui allora sto scemoito carabello adesso mi sa che abbiamo finito i punti non c'è niente da fare penso che devo non c'è niente da fare penso che devo colore tipi di armatura andiamo al movimento facciamo questo dai se riesco a prenderlo da dietro porca loca oh cazzo non ti seguo caspita cosa vuol dire questa roba? che cos'è? ditto medici scusalo ditto medici ragazzi qui va che cosa vuol dire? che cosa vuol dire? ma non ci vediamo se non ci vediamo c'è la donanza dell'armi monta le succezze esegui un salto con una posizione è extra ma qual è la parte dove devo andare a respirare a la 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Non c'è serio Fai un gradino di ore Vito smettila Chiudi sta porta Vai la e la Fai come la nonna Fai una cosa poi Madonna quando uno fa una live Tutti che fanno casino Che roba Ecco Allora vediamo un attimo Dimmi che posso farlo ancora No Non faccio Non faccio a potenziare le armi del gemino No faccio a potenziare le armi del gemino Devo andare di là Per cortesia un po' di silenzio Perfetto Ok vai Arca loca Dov'è che va sto qua Ok Oh 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 Mi spara proprio quello Che era già ferito No faccio a potenziare le armi del gemino Allora Allora vediamo un attimo Devo costruirmi una stanzetta ragazzi Perché È assurdo Spara Ma il discorso è Dov'è che devo andare? Questo è che cos'è Il caricatore Allora Devo far così Anche su questo Fammi vedere Allora Oh mio ino E E E Oh 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 Ma è andato il giusto qua? Oh, cosa fai? Allora, è bello, graficamente è bello, non riesco a capire che cosa bisogna fare, nel senso, ok, adesso, cioè mi dice di andare su che c'è una borsetta blu lì, e cosa devo fare? C'è per uscire un tutorial, non è il top, non è il quadro, non è il quadro, non è il quadro, non è il quadro, non è il quadro. Allora, salva i soldati, lì c'è una borsa che lampeggia, blu, vedete qua, ragazzi, ma come fai a salire? Ah, aspetta, così si sale. Aspetta un secondo. Perché non, cioè, vedete, non c'è una scala, no? Allora, man mano che vado su, lui sale, di visuale, e qui c'è una cassa, non so che cosa ho fatto, probabilmente dietro, esattamente, quello che non volevo. Vedete che c'è, lampeggia qualcosa qua. Cioè, man mano che uno fa così, dovrebbe... No, realmente... Ma sì, ma io ho anche capito, qui da dove escono i nemici, ma cosa bisogna fare? Dovrò andare qui con questo qua. Andiamo con tutte e due dentro? Sarà tipo una donata? Sarà una donata, forse. Oh, porca la putzola. Allora, vuoi prendere che è questo qua o no? No, allora, su lì non può andarci. Vai dentro così? No. Cioè, quando fanno così i giochi, ragazzi, davvero mi cadono i coglioni dalla bellezza che è, perché comunque è bello. Salva i soldati. Dov'è il soldato? Forse è questo il problema. Ragazzi, è il soldato, è morto. Dov'è il soldato? Che cazzo fa questo qua? La scadra ha un nuovo membro. Oh, ma... Aspetta, come abbiamo bisogno di una bella distanza. Eh, non ce l'avevamo prima, sto amar della minchia. Omar ha un'arma pesante. La cassa in cima, la torre potrebbe... Ok, Omar. Quindi tu sei quello che, in teoria, può andare su. Ok, dai, forse... L'abbiamo capito, non ho capito perché non andava Omar da solo, ma... Vabbè. Ok, Omar. Come cazzo ci vai tu su qui? Ok, Omar. Non puoi fare così. Vai, faici fuori. Oh, 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 dobbio. Omar, Omar, Omar. Perché è andato lui? E non Omar? Ok. I'm here. Let's make this happen. Operative on the move. L'Omar ha un'arma pesante. Non è che Omar deve entrare dentro la casetta. Allora, vediamo se Omar può entrare dentro. No, Omar non può entrare dentro. Omar. Allora, seleziona un punto di bersaglio per l'esplosione del missile, premi A. Allora, è un po' in cima. Allora, è un po' in cima. Opa! 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 cosa vuol dire che mi segnala qui e cos'è che c'è qua non capisco andiamo sta scemo se si muove adesso mi spara un peno ma preso eh ah 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 oh grande questo è un po ferito ma è il più figo di tutti vediamo se riusciamo a buttare giù con il mezzo questa parete ok un po' una questione di dove si punta eh ecco un po' una questione di ok ecco 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 Allora, o sti giochi vanno giocati con il mouse, o sono un po' incasinati, oh cazzo. Sei serio? Non ho un bandito che spara, mi segherà, eh? Riposizione, priorizzando la velocità. Riposizione, priorizzando la velocità. Allora, il discorso era non far che bisogna sparare le strutture così non c'era sto puntamento della minchia. E come cazzo lo prendo sta cosa qua sopra? No, non c'è la scala quindi non salgono. No, non c'è la scala. Ma c'entra qualcuno? Porca miseria, Mark. C'entra sto scemo, nììììì. Ma cosa ammazzato? No, dai cazzo. Non mi sono reso conto che c'era sto scemo. Oh, questo cretino è uccito adesso. sei serio segna tutto sto casino allora è un po' chi ha le sue però non è male ragazzi dovrei provare a giocarlo con il mouse forse un po' chi ha le sue operative we had a location too right in the middle of that station the scarab made it clear that we should attempt a rescue before continuing with our journey despite no sign of the mutants our comrade was clearly under threat the scarab's missile launcher would prove very useful ok dai tanto lo sappiamo adesso oh rolling out watch out i'm moving in hmmm ci ha riparato sprinting sprinting ok 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 e vai porca guarda che stront ma sparate ok asserola asserola I just need to catch my breath. 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 Okay. Okay. I'll be right there. I can make a difference. 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 C'è serio? Ma cosa cazzo devo fare? Oh, questo è colazzato! Pasterola! Un attimo qua ciccio Si macchina o fa niente? No, lo lasciamo qua Guardalo, che stronzo! No choice but to keep going Got me lucky Nooo, serio! Mi ha visto dalla finestra! Mi ha visto dalla finestra! C'è sì, serio! Oh! Vabbè dai! Abbiamo finito la missione! Feri subiti, tutti subiti, feriti a manetta proprio! Uno undici! Ok dai! Diciamo che come prima esperienza di questo gioco è positiva Positiva, sì, ci sta di brutto! E faremo altri live con questo gioco Phoenix Point dal pass di Microsoft Perché questi giochi mi piacciono, ma sinceramente E' un po' più Un po' più lungo Molte volte non sono scontati E costruzioni Volta con la montagna Malata E non ci sono un tanto Era abbastanza L'engino Colato una grande grande La Io Questa è stato nobile A poi c'è un nome Lindo Di quello che siamo nel destino Ma non c'era E ci sono C'è un po' più Cosa 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 H stoppeda ok ragazzi dai la terza missione non ci voglia di farla è già tardi e noi ci vediamo alla prossima live di twitch con xbox serie x mi raccomando di seguire il mio canale facebook instagram tiktok twitch e tutto quello che salviamo la partita perché siamo andati più avanti dell'altra volta e di seguirmi anche su facebook twitter instagram tiktok twitch discord poi più avanti voglio fare anche il sito internet e mi raccomando soprattutto twitch di iscrivervi portare gente sul canale youtube dove ci sono tutti i video salvati live tutorial platini sacco di grova intrattenimento per voi e per me e mi raccomando di commentare lasciare un mi piace e attivare la campanella ciao ragazzi da marco drums games channel è tutto un abbraccio un saluto portate gente sul canale ciao 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 ciao